Onorevole Di Maio è qua a Gela per venire a vedere in che condizioni questa città sta vivendo questo drammatico momento, si dice forse il peggiore della sua storia recente, qual è la sua idea, cosa riporta a Roma di questa sua visita a Lampo a Gela? Io sono qui per conoscere prima di tutto la situazione dai diretti interessati e soprattutto per non fare alcuna promessa, l'ho detto chiaramente ai lavoratori dell'indotto, 500 persone rischiano il posto di lavoro, anzi hanno già finito la cassa integrazione. Queste persone mi hanno detto che si sentono presi in giro dal piano dell'ENI, il piano che parla di green raffineri, che parla di una serie di cose fantascientifiche, tutte scuse per non fare le bonifiche e per non restituire ai cittadini di Gela la città così com'era prima di prenderla con la raffineria. Un operario mi ha detto come ci hanno sfruttato, adesso ci devono dare una soluzione ponte per riuscire a rimetterci in carreggiata con il lavoro. Molti di loro sono anche vittime della legge Fornero, perché potrebbero stare in pensione oggi e invece hanno davanti ancora anni prima della pensione a causa di quella legge. Insomma qui si congestionano tutti i problemi della politica nazionale e locale. Che cosa facciamo noi? Prima di tutto stiamo spingendo il più possibile con la nostra Presidente di Commissione Ambiente e Consiglio Comunale il piano per le bonifiche, perché con le bonifiche si può dare lavoro ma soprattutto si può restituire alla città la vocazione turistica e la vocazione agricola. L'ENI si deve mettere in testa che come ha sfruttato questo territorio adesso lo deve mettere a posto. E per fare questo io invierò adesso nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un atto ufficiale della Camera dei Deputati al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere di premere sulle bonifiche e sugli investimenti. Non su questa idea della Green Raffinery che sappiamo già al nord non ha funzionato ed è il miglior specchietto per le allodule per dire a LENI guarda noi ti facciamo fare la Green Raffinery e tra l'altro non ti facciamo bonificare. LENI non vuole metterci i soldi, quello è il punto. In questo momento ci sono due governi, quello nazionale e quello regionale, dello stesso colore politico entrambi guidati dal PD che si palleggiano responsabilità di gravi ritardi. Ma il problema è proprio quello lì, se questi lavoratori fossero dei banchieri li avrebbero già salvati. Noi le soluzioni le abbiamo, abbiamo un piano alternativo, sappiamo dove prendere i soldi per la cassa integrazione perché queste persone devono avere un ponte fino a che non parte il piano delle bonifiche. Ci sono i fondi europei FEG ma qui la questione è che non si stanno interessando adeguatamente i vertici politici perché non gli interessa. Queste persone non sono un numero cospicuo di persone che gli possono interessare elettoralmente o dal punto di vista dei soldi per farsi finanziare le campagne elettorali. È stato qua Gela a maggio per chiedere ai gelesi di votare a Domenico Messinese sindaco. Oggi Domenico Messinese non è più dei vostri. Io ho chiesto ai gelesi di votare un programma, un programma che prevedeva di sconfessare le balle dell'ENI e del PD su questo territorio. E guarda caso adesso sono stato dei lavoratori che mi hanno detto le stesse cose che noi mettevamo nel programma elettorale. Il fatto di essere qui significa che quel programma va avanti, i cittadini gelesi non si devono sentire abbandonati, anzi siamo ancora di più sul territorio e li seguiremo direttamente da Roma per il problema occupazionale qui e per tutti gli altri problemi che riguardano questo territorio.